Uno strumento di garanzia per le imprese lucane. E' questo il senso del protocollo di intesa firmato questa mattina tra il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, e il presidente della Camera di Commercio, Michele Somma. Un protocollo di legalità per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di criminalità in campo economico. L'intesa consentirà anche alla prefettura l'accesso alla piattaforma informatica Rex. In questo modo saranno a disposizione del prefetto i dati su governance e assetto societario delle aziende, ma anche eventuali elementi pregiudizievoli del passato di un'attività economica. E utilizzeremo l'opportunità che ci viene data da questo protocollo per acquisire maggiori informazioni sulle imprese per capire se possa esistere il rischio di condizionamento della criminalità organizzata. Per il prefetto un protocollo necessario in un momento in cui, come denunciato anche dal procuratore di Potenza Francesco Curcio, il rischio di infiltrazioni mafiose nelle aziende lucane si è fatto più concreto. La situazione economica post pandemia della Basilicata non poteva essere dissimile da quella del resto del paese. Come Camera di Commercio noi però registriamo al contempo anche dei fattori positivi. Sono stimate nel periodo che va da giugno ad agosto oltre 10.000 nuove assunzioni. Il legame tra legalità e sicurezza sociale è inscindibile e sicurezza sociale vuol dire anche sviluppo ordinato del sistema economico che garantisca libertà di impresa e concorrenza leale.